Beta-talassemia e sindrome miellodisplastiche sono due patologie del sangue con un impatto significativo sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono e dei loro care giver. L'unico modo per arrivare alla guarigione di queste malattie è ad oggi il trapianto di midollo osseo. Tuttavia, importanti innovazioni terapeutiche si stanno profilando e potrebbero cambiare in modo considerevole la quotidianità di questi pazienti, limitando il ricorso a frequenti trasfusioni. Oggi però il fabbisogno trasfusionale resta elevato e quindi è doveroso richiamare l'attenzione sul valore della donazione del sangue. Superato il primo momento di smandamento perché c'è stato un attimo di paura e di panico, poi con la responsabilità che ogni donatore ha e anche grazie all'islogan che Avis nazionale ha messo nel circuito esci solo per donare, i donatori hanno subito capito l'importanza della donazione del sangue e quindi si sono approssimati ai nostri centri di raccolta naturalmente con tutti quelli che sono i meccanismi per la protezione personale per loro e per chi riceve. Per promuovere la donazione del sangue ha fatto tappa a Reggio Calabria la campagna di sensibilizzazione magnifico donare, promossa da United Onlus, Federazione Italiana delle Talassemie, Emoglobinopatie rare e drepanocitosi e AIP Asim Ollus, Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, in collaborazione con Avis e con il supporto non condizionante di Celgene, ora parte di Bristol-Myers Squibb. La trasfusione di sangue è ancora oggi la terapia di lezione per i pazienti affetti da beta-talassemia, una malattia genetica ereditaria frequente in aree geografiche come il bacino del Mediterraneo, che è possibile diagnosticare sin dai primissimi giorni di vita. A oggi possiamo essere più che soddisfatti, i dati fino alla data del 31 agosto ci confermano un trend positivo con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di circa 800 unità di sangue e anche l'anno passato non è che abbiamo perso qualcosa, per cui c'è un incremento positivo sia di donatore che di donazione. Anche per le sindrome mielodisplastiche, un insieme di malattie del sangue caratterizzate dalla proliferazione incontrollata delle cellule stamilani che non riescono ad assicurare una normale produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, le trasfusioni rimangono una terapia ad oggi necessaria. I pazienti sono esposti alle conseguenze di carenze di sangue, che si concentrano in particolare nel periodo estivo e nei mesi invernali durante il picco influenzale, ed in alcune aree geografiche, soprattutto al sud. Proprio per questo United e Aipasim, insieme ad Avis, hanno deciso di collaborare per sensibilizzare i cittadini e le nuove generazioni di donatori. La lemia cronica ha un impatto importantissimo, soprattutto nella nostra azienda, che ha un'altissima specialità, parliamo di pazienti oncoematologici e talassemici. Impatta per un 50-70% delle trasfusioni che noi giornalmente effettuiamo in reparto. E soprattutto ai giovani che si rivolge la campagna, ricordando l'importanza di donare felicità completamente, semplicemente, adesso e sempre, nel brano Magnifico Donare, interpretato da Chiara Gagliazzo, testimonial della campagna. La musica ha, quando la musica serve a qualcosa, la musica alla fine, come primaria importanza, veicola dei messaggi. E quindi in questo caso era molto bello, infatti abbiamo fatto anche la canzone con Virginio, la canzone Magnifico Donare, perché appunto possa sensibilizzare, possa convincere, possa sollevare la questione sul fatto delle donazioni.